La nostra storia La nostra storia Per raggiungerlo mettiamo in campo ogni giorno le nostre competenze, le qualità umane e le nostre idee per offrire servizi adeguati alle esigenze delle persone e della collettività. Ancora oggi ci guidano valori antichi e sempre attuali. Integrità, onestà, correttezza e lealtà. Perché tutti noi sappiamo di avere una bella responsabilità. Aggiungere pagine nuove e felici alla nostra lunga storia. Insieme. Banco di Sardegna Ogni giorno con te